Per la Nazionale di Calcio abbiamo tifato e sofferto, abbiamo esultato e ci siamo abbracciati uniti. Niente più della maglia azzurra, resa straordinaria da centinaia di calciatori e calciatrici, ha acceso la passione degli italiani. Emozioni che potete rivivere per intero al Museo del Calcio di Coverciano, attraverso i cimeli, le immagini, i protagonisti che hanno trasformato una squadra in pura leggenda. Viaggia con noi inoltre un secolo di partite, gol, ricordi, sogni e racconti. Un secolo di azzurro.